Adesso guarda il mio potere! Martello gigante! E ora ti spiace con quella cosa aveva la tua piccola testa del cacchio! E prendi anche questa undine! Cado! E qua... Beh, hai ragione, però sono io quella che non gli è dalle più sfida! No, volevo farti lo sgambetto! E ora... Guarda questo! E anche Junior è andato! Non volevo usare l'esplosione Omega perché era un po' esagerato! E ora Vegeta! Adesso presto pure te, Vegeta! Accidenti! E' tutto qui! Ah, 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 ah! La tordina mi ha... Mi ha fatto un cavolo! E' una... Esplosione Omega! Ah! Pensi di avere la bloccata, ma invece... No! Ecco! Ecco fatto! E ora guarda questo! Martello gigante! E spiaccicherò pure te! Che cos'è quella cosa più... Tutta rossa? E' la testa di... Era la testa di Vegeta! E' la testa di Vegeta! Ecco adesso è il World Trance che pensa di farlo sburone! Ma le prenderà come sempre! Ah, pensi che tu mi faccia paura? Nanerottolo! E ora guarda! Cacca! Prendi questo! Esplosione Omega! Prendi questo! E ora te la faccio esplodere in faccia questa! Ah, ti ho spattuto! Ed ecco l'altra raffica di cazzotti! Ti è piaciuto? Martello gigante! E tu sei andato, Trance! L'ultimo colpo! Ecco fatto! Ups, ti ho spaccato dieci costole! Beh, l'ho fatto apposta! Questo è un combattimento, se si può così definire, tratto dai guerrieri degli inferi! Oh no, ho dimenticato di mettere il vestito giusto, vabbè! A parte che in questo scontro dura un secondo in teoria, perché Gwana in teoria potrebbe ucciderlo con un figlio! Fatti sotto! Però bella la musica! E Freezer le prende! Ah! Aia! Questo lo faceva male! Prendi questo! E questo, e questo, e questo! No! Mi ha... Mi ha... Mi ha preso! Mi ha proprio rotto le palle, prele! Ah! Fregato! Ah! Un bel pugno nella schiena! E cento in pancia! Vieni qua! Ah! Ti ho fregato! E ora, guarda questo! E ora, ti ucciderò con la mossa finale! Guardala! No! Tanto c'ho tempo! Aia! Superonda energetica! E Freezer è andato! Allora, penso che mi stiamo iniziando a prendere questo ancora! Eh, visto che non abbiamo molto tempo, ho scelto un altro scontro che TenCash3 ha dimenticato! Ba... B-B-V-S... No! Ba... Magibu-V-S-Babidi! Ata su... Ata su ti faccio cuore! Prendi Accidenti L'ha parata No la para Ti piace tutte queste botte E non è ancora finito Perfetto Ma chi sono? Ma chi sono? E' una straccia di brutto Perfetto Perfetto